Sanità in rosso, aumenta l'IRPEF nella manovra di fine anno, ritocco verso l'alto dell'addizionale regionale per chiudere il bilancio, Italia Viva non vota, centrodestra e 5 stelle contrari. Buonasera e bentrovati a quest'ultima puntata del 2023 di Monitor Consiglio. Nell'ultima seduta dell'anno il Consiglio regionale ha approvato la nota di aggiornamento al documento economico finanziario, la legge di stabilità 2024, il collegato alla legge di stabilità e il bilancio di previsione finanziario fino al 2026. Tutti i provvedimenti sono stati approvati a maggioranza, a favore il PD, contro Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle e non ha partecipato al voto Italia Viva. I consiglieri della Lega hanno esposto in aula uno striscione di protesta contro l'aumento dell'addizionale IRPEF per pareggiare il bilancio della sanità. Per le interviste partiamo dal capogruppo del PD Ceccarelli che spiega appunto il motivo dell'aumento dell'IRPEF. Intanto occorre dire che è una decisione che abbiamo ponderato a lungo e che certo non facciamo a cuore leggero perché tutti quanti credo avrebbero preferito non gravare sui contribuenti toscani. Anche se noi abbiamo scelto di chiedere una sorta di contributo di solidarietà alle fasce più alte o medio alte. Vale a dire, chi più ha gli chiediamo uno sforzo per far sì che la sanità toscana, che è una sanità considerata di eccellenza anche dalle indagini ministeriali, possa eventualmente migliorare e non sicuramente regredire. Oggi la sanità toscana offre dei servizi che vanno oltre i livelli essenziali di assistenza. Posso fare alcuni esempi. La cura dei denti fatti dalla sanità pubblica, lo screening neonatale, il codice rosa, tutta l'esenzione dal pagamento di qualsiasi ticket da parte dei disoccupati sotto l'ISED 18.000 euro. Ecco, noi non possiamo permetterci che la cura dei cittadini e delle cittadine toscane e di chi sta in Toscana regredisca, ma anzi abbiamo bisogno semmai di migliorare. Di fronte ad un governo che da una parte in percentuale ha tagliato il fondo per sostenere la sanità pubblica, dall'altra non ci riconosce il payback, che l'anno scorso era di circa 400 milioni e che è previsto da una legge dello Stato. Noi avevamo poche altre scelte. Poteva essere quella di mettere il ticket sulle ricette, quello di aumentare i medicinali. Sarebbe stata una tassa indiretta nei confronti di chi ha bisogno di curarsi perché ha meno salute. Potremmo rinviare questa decisione, come ha detto qualcuno, e fare la battaglia perché il governo ce la riconosca, ma se poi il governo non la riconosce, passata la fine dell'anno, noi saremmo costretti ad andare in piano di rientro e quindi automaticamente le aliquote dell'IRPEF andrebbero al massimo, non soltanto per le fasce più alte come abbiamo previsto noi, cioè non prevedendo nessun aumento per chi fa una dichiarazione dei redditi da 0 a 28 mila euro, ma sarebbero aumentate per tutti. In più aumenterebbe l'IRAP a carico delle aziende. Quindi questo noi non ce lo possiamo permettere. E allora noi diciamo che questo è un passaggio obbligato per difendere la sanità pubblica, la sanità che deve curare tutti i cittadini indipendentemente dal loro avere. E se veramente il governo vuole dare una mano perché questa non si configuri come una tassa indotta dal governo nei confronti dei toscani, ci riconosca il PEBEC oppure è meglio, rispondendo a tutte le regioni, accetti la nostra proposta di legge, quella che abbiamo inviato al Parlamento alcune settimane fa, di portare il finanziamento per il Fondo Nazionale a sostegno della sanità pubblica almeno al 7,5% del prodotto interno lordo. In realtà invece, lo dice la Corte dei Conti, il governo ce lo sta riducendo al 6,2% per quest'anno, per il prossimo anno al 6, addirittura per il 2025. Ecco perché abbiamo dovuto fare una scelta che è sicuramente una scelta dolorosa, ma siamo convinti di aver fatto la scelta più equa nell'interesse dei cittadini e delle cittadine toscane, soprattutto di quelle che hanno più debolezza economica. Italia Viva, l'abbiamo già detto, è uscita dall'Aula al momento del voto. In questo modo ha salvato la maggioranza, sentiamo il capogruppo Scaramelli. Io non ritengo che la maggioranza sia stata mai messa a rischio. Forse era il centro-destra che pensava che qui ci fosse una crisi di maggioranza. C'era una divergenza di punti di vista. Una questione oggettiva che noi abbiamo, insieme al collega Sguanci, rimarcato dal primo giorno di questa discussione, noi siamo contrari all'aumento delle tasse e abbiamo confermato questa nostra contrarietà non partecipando alla votazione che implica una tassazione molto forte nei confronti di cittadini toscani. Io l'ho definita, fin dal primo giorno, iniqua, ingiusta e non corretta per un livello di progressività che non ritengo corretto. Penso che sia legittimo discutere nel merito. A un certo punto di queste trattative, in queste giornate, si è entrati nel merito, non si è arrivati laddove noi volevamo, perché noi pensiamo che non sia corretto, che una persona, un professionista che guadagna 85 mila euro non debba pagare niente perché ha un regime forfettario, non pensiamo che non ci sia una gradazione corretta che porti sulla fascia delle persone che sono una classe media, quelle persone che da 1.400 euro al mese guadagnano 2.500 a dover pagare più 97%. Questo ci ha consentito di disentire su questa misura. Questo non vuol dire che noi non stiamo in maniera attiva, importante nella maggioranza, l'abbiamo dimostrato facendo approvare nel DREF un atto importantissimo che per esempio sul collegamento fra Siena e Roma porta fondamentalmente un'innovazione straordinaria di collegamento ibrido. Lo abbiamo dimostrato quando abbiamo votato in termini di bilancio e di legge di stabilità tantissimi articoli che riguardano investimenti, opere pubbliche, riguardano i nostri comuni da Firenze, i comuni del territorio senese, aretino e pistoiese. Non solo, lo abbiamo fatto nelle misure di governo per quanto riguardano le imprese, l'economia, l'agricoltura. Noi ci stiamo in questa maggioranza e credo che dita da viva ci ne sia bisogno perché questo senso critico e questo spirito porta a raccontare la verità. Noi non siamo per aumentare le tasse, abbiamo messo in campo proposte alternative, noi eravamo e rimaniamo convinti che il credito debba essere riscosso. Sbaglia il governo Meloni a non assumersi questa responsabilità e a costringere le regioni a fare queste manovre. Quindi noi avremmo continuato a fare la battaglia nei confronti del governo Meloni. Mi fa un po' strano che siamo gli unici a denunciare le mancanze di un governo che non mantiene gli impegni con i cittadini e con le regioni. E adesso su bilancio e sanità sentiamo le dichiarazioni delle opposizioni. Una manovra di bilancio che metterà le mani nelle tasche dei cittadini toscani era decenni che non si vedeva un aumento delle tasse in questa misura, 200 milioni che andranno ad incidere su una fascia reddito di persone che poi prendono circa 1.500 euro il mese. Quindi non una operazione a cuor leggero che questa maggioranza ha dovuto fare dopo che per tanti anni il bilancio della sanità non versa ovviamente in buona salute. Questo purtroppo oggi arriva sui banchi del Consiglio regionale, l'aumento dell'IRPEF che andrà a toccare senza progressività e in maniera completamente fuori misura rispetto anche a quello che fanno le altre regioni italiane. Si vuol dare responsabilità al governo ma questa problematica noi la sappiamo anche in riferimento a quello che poi è il tema del payback che poi è un tema anche molto complesso. In realtà di questa situazione si sa in regione, ne abbiamo discusso già anche lo scorso anno, quindi si è arrivati alla fine ma quello che fondamentalmente va fatto è rivedere il sistema sanitario regionale partendo dalla riformulazione di quel piano del 2015 che ha centrato un potere amministrativo che invece deve essere riportato sui territori perché questo ha causato soltanto peggioramento dei servizi e aumento dei costi. Questa manovra di bilancio resterà nella storia, non credo, della regione toscana semmai nella storia fiscale della regione toscana come la manovra che va a mettere le mani in tasca ai cittadini toscani. È un qualcosa che pensavamo appartenesse a un'altra epoca politica. Noi abbiamo sperato fino all'ultimo momento che non si riportasse sulla scena politica quella dicotomia che appartiene al passato per cui se i costi crescono e non si riescono a controllare l'unica maniera che si ha per limitarli è aumentare le tasse ai cittadini. Mi dispiace per due motivi. La prima perché i soldi del payback non erano sicuri di arrivare nelle casse della Toscana non l'abbiamo scoperto ieri. Che non fossero sicuri, noi potevano anche arrivare, ma che non fossero sicuri lo sapevamo però da almeno 18 mesi. E in questi 18 mesi, tante volte, anche dai banchi della minoranza, è arrivato un invito al Presidente Gianni a mettere mano ad una ristrutturazione, ad una riorganizzazione del sistema toscano sanitario. Che non è stata fatta. E poi all'ultima abbiamo dovuto aumentare le tasse. Ma c'è di più. Perché oggi il Presidente Gianni in aula ci dice che da oggi partirà una task force alla quale noi crediamo e siamo super favorevoli. Una task force per razionalizzare le spese e riorganizzare il sistema sanitario. Perché grazie a questa task force eviteremo che il provvedimento di aumentare le tasse diventi strutturale. Cioè oggi Gianni ci dice datemi un anno di tempo per lavorare con una task force a razionalizzare le spese e il sistema sanitario e tra un anno io ridurrò quelle tasse che oggi aumento. Questo significa che se fosse stata ascoltata la minoranza 18 mesi fa, quando dicevamo mettiamoci al lavoro per razionalizzare le spese, avremmo evitato beatamente l'aumento delle tasse che arriva sulla schiena dei cittadini toscani a 5 giorni dal Natale e che per qualcuno significa qualche centinaio di euro in più spesi per qualcuno qualche migliaio di euro in più spesi. Motivo per cui questa manovra di bilancio ha trovato la contrarietà di Fratelli d'Italia. Ma ci sono diverse cose che non vanno. Prima di tutto l'abrogazione di alcuni articoli importanti come fondi per l'edilizia scolastica che vengono proprio cancellati, la riduzione di importi importanti a favore della mobilità ciclistica. Ma uno fra i più gravi a nostro avviso è l'esiguo stanziamento per i centri antiviolenza a malapena 50.000 euro che vista anche la situazione particolare che ha portato ad un incremento del 35% delle chiamate per chiedere aiuto ai centri antiviolenza. Dare un importo così piccolo ci sembra veramente non capire la situazione. Anche ieri c'è stato un femminicidio bruttissimo ai danni di una giovane donna incinta. Quindi non crediamo che sia veramente ammissibile che la regione toscana dia un importo così basso per i centri antiviolenza. Per fortuna, come dicevo in aula, ho saputo che in Parlamento tra i fondi a disposizione delle opposizioni sono stati stanziati 40 milioni per i centri antiviolenza con una voltazione all'unanimità, anche se la proposta è stata fatta dalle opposizioni, è bene dirlo. Quello che mi domando, anzi ci domandiamo, è questa continua rimodulazione di investimenti e impegni di spesa, come anche tra le righe che viene menzionato come richiamo della Corte dei Conti, ha portato in alcuni casi a stipulare dei mutui per i quali la regione toscana ha pagato degli interessi. Nel caso del raddoppio ferroviario Pistoia-Lucca si parla di un rinvio di 10 anni, quindi noi abbiamo acceso dei mutui e abbiamo pagato interessi passivi per 10 anni. Questo a nostro avviso sono spreco di risorse, così come anche tanti altri, per dire lo stanziamento di 800 mila euro per il golf del Casentino che addirittura non sono solo stati rimodulati ma addirittura aumentati di 100 mila euro in una situazione del genere dove chiediamo ai cittadini toscani di mettersi le mani in tasca e pagare i buchi della sanità, noi diamo 100 mila euro in più per il golf del Casentino. Ecco io mi domando dove si trovi il coraggio di fare queste operazioni. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.